Siamo qua a Cricignano con Federico Salvatore, Federico dopo tanti anni, torna distribuiti in pubblico, la piazza è piena, più di 1500 persone, cosa vuol dire la persona di Cricignano per la tua presenza qui? Hai detto tutto tu, tutto hai detto, posso solo dire un haz, ma haz proprio come ringraziamento da 15 anni ad oggi, quindi un ringraziamento dall'azienda. Possiamo dire un tuo ritorno sulle scene diciamo? Allora io le scene non le ho mai abbandonate, diciamo ritorno sulle piazze perché ormai da dieci anni vivo di teatro perché ricordatevi che la televisione ti impone ma poi il teatro ti sceglie. Aspettavi dopo più di dieci anni una piazza così piena per te? No, però mi ha fatto assai piacere sinceramente, dopo dieci anni aver lasciato un ricordo nella memoria del popolo, degli amici e dei napoletani, non solo dei napoletani che mi ricordano e mi seguono con affetto, è stata una grandissima gratificazione. Grazie. Grazie.